Per prima cosa ti vorrei chiedere che cosa rende il vostro brand così unico e nonché il più scelto dai cavalieri? Noi cerchiamo di creare un prodotto elegante, abbiamo Alessio Meoni, il nostro stilista che riesce a coniugare la performance con l'eleganza in modo eccellente e questo ci permette a noi di portare il prodotto in giro per il mondo e ai nostri clienti di averlo, di sceglierlo e di indossarlo in questi teatri. E come nasce quindi la partnership con il Lungi Natino Nassi's Whore Show? Nasce da un'amicizia che c'è con Dennis e da un fortissimo rispetto che abbiamo con Dennis. Noi ci siamo conosciuti nove anni fa, il progetto ancora non era iniziato, eravamo veramente all'inizio, però puntevamo sullo stesso target e su fare un qualcosa dedicato all'eccellenza e noi siamo dedicati a creare un marchio di abbigliamento che oggi è Cavalleria Toscana e penso di poter dire tranquillamente che ci siamo riusciti e lui si è dedicato a creare un concorso con lo stesso taglio, con lo stesso target e oggi con piacere ci siamo ritrovati, riuniti e siamo davvero felici di partecipare a questa manifestazione come sponsor. E appunto che cosa ne pensate di questa manifestazione, un'impressione? Un progetto ben riuscito, ha fatto quello che diceva che voleva fare, oggi è arrivato a creare un concorso di alto livello in un posto dove forse prima era impensabile anche e con un pubblico incredibile, con un management perfetto, dei collaboratori perfetti, siamo davvero contenti e gli faccio davvero i miei complimenti per il lavoro che ha fatto. Enria, siamo sicuramente felici e continueremo questa partnership con lui e questa amicizia che ormai ci lega da anni.